Un altro momento particolare della 36esima edizione della Sagra del Crostone è quello che andrà in scena lunedì 31 con il Trofeo delle Sagre. Ne parliamo con uno dei collaboratori del Carpine Racing Team che organizza questo evento, Daniele Padovano. Allora, raccontaci innanzitutto di cosa si tratta. Sappiamo intanto che è un percorso a tappe, questa è la terza tappa di quattro eventi che fanno appunto il Trofeo delle Sagre. Sì, confermo, è la terza tappa dell'evento e hanno avuto un gran successo anche le altre due. Questa si svolgerà in notturna, quindi sarà una cosa molto particolare che è illuminata, è una gara su un fettucciato e niente, comprende diverse categorie. Si parte dai mini cross, bambini da partire dai 4-5 anni. Per gli adulti c'è la gara con le pit bike e i ciclomotori, i vecchi sì e i vecchi bravo. Si ritorna ai vecchi tempi con i ciclovotori modificati, ecco che fanno la gara sul fettucciato. Ecco, nelle due edizioni precedenti, nelle due tappe precedenti, quanti sono stati i partecipanti? Sono stati tanti, si parla di una 50-60 partecipanti e era molto caldo. Quando è giorno la stagione è calda, quindi è anche un sacrificio partecipare. Lo sforzo fisico sulla moto, il caldo, quindi la sera sicuramente saranno tanti di più. Anche perché mancano le piste qua nella zona e poi c'è il fresco, quindi è una cosa particolare, notturna, la gente ce ne viene tanta. Io ho le iscrizioni sul numero WhatsApp, che già ho il telefono pieno, quindi sono sicuramente tantissimi. E possiamo dire che possono partecipare tutti, l'unica condizione è quella di tesserarsi per il Carpine Racing Team. Sì, chiunque volesse partecipare, praticamente fa la tessera, è tipo una tessera socio con ASI, che fa la tessera annuale con l'assicurazione e poi paghi la quota per la gara, che è veramente una cavolata, e partecipi senza problemi. Bambini, adulti, chiunque partecipa. Come è nata questa collaborazione con la Sagra di Strozza Capponi? È nata perché, diciamo che esco con un gruppo di amici che sono di qua, sono stati molto disponibili e gli è piaciuto l'evento che hanno visto nelle altre sagre e le altre manifestazioni che hanno avuto sempre una gran riuscita. Abbiamo detto che ci sono tre ambiti, minicross, pitbike e ciclomotori. Ci sono ovviamente già delle classifiche per effetto delle due tappe precedenti. Esatto, ci sono delle classifiche, naturalmente chi si aggiungerà ripartirà da zero, ma il campionato va alla grande, va alla grande anche perché partecipa gente grande, partecipano quarantenni, cinquantenni, sessantenni, quindi è una bella cosa, una bella bella cosa. Anche i bambini sono molto uniti, c'è lo sport, c'è lo spirito di squadra, quindi è una cosa molto carina. Abbiamo detto nella presentazione che è il primo trofeo delle sagre, quindi la riuscita di queste tappe sicuramente vi spinge a replicare anche il prossimo anno e ad allargare magari questo tipo di esperienza. Assolutamente sì, è un grande impegno, però il prossimo anno faremo ancora di meglio, vista la riuscita, assolutamente sì. E allora diamo a tutti l'appuntamento per lunedì 31 per divertirsi anche magari con i vecchi ciclomotori e tornare in pista a correre. Esatto, sì, vi aspettiamo.